10 5 4 3 2 1 vai 100 vai a destra la chiesetta sinistra 1 sinistra 1 per accenno destro 50 scende vai a sinistra per destra 4 apre 100 sporchi sinistri tornante sinistro secco e apre 20 destri rotti per ritarda tornante destro corto e apre 80 mossi vai a destra per sinistra 3 corta lascia si credici è una 3 eh 50 sinistra 5 e stacca stacca quando vedi il rosso inversione destra 90 100 vai a destra per sinistra 3 più tieni vai a destra bene 3 più tieni in destra 3 più sfiora 3 in sinistra 4 per chicane entra a destra 4 volte 1 2 3 via in sinistra 4 apre per per destra 3 lascia sconnessa e ritardala un po' eh per innesto destro rotto qui è tutta rotta eh 50 ritarda molto destra 2 chiude chiude sporca per destra 4 lunga 4 lunga in sinistra 3 apre sudosso in all'albero sinistra 3 credici e apre eh 3 eh 20 allo spigolo rosso destra 4 apre per sinistra 3 lascia apre al palo sporca 3 eh 200 sinistri a vista per alla casa destra 3 tieni destra 3 tieni 30 sinistra 3 stacca stacca in versione sinistra bravo destra 4 50 al rovescio dosso dritto per destra 3 lascia e raccorda bene in destra 3 corta e tieni e subito al piri sinistra 2 apre tienila qui anticipala un po' eh bravo per destra 3 80 sinistri per sinistra 5 stai al centro e apre ripeto 5 stai al centro e apre e alla casa chicane entrata a destra chicane entrata a destra buono 1 2 via subito sinistra 5 lunga e tieni in ritarda occhio attenzione destra 3 tieni e sfiora 3 tieni e sfiora per sinistra 5 lascia a rosso destra 3 tieni e sfiora in 3 eh in anticipa sinistra 4 più lunga su dosso e subito destra 5 lunga su compressione apre credici tieni giù 50 stacca stacca in versione sinistra su sinistra 1 buono 100 vai a sinistra per destra 4 lunga lunga tieni 20 sinistra 4 lunga tieni credici eh occhio che ti cibolerà un po' ma credici è una 4 per destra 3 lunga e chiude dopo questa è una 3 eh lunga e chiude dopo eh 100 al blu vai a sinistra ritardi innesto destro sporco bravo 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 50 destra 4 lunga veloce 50 destra 4 meno tieni mossa in sinistra 3 molto sconnessa lascia taglia tutto occhio questa è una 3 che sconnessa eh in sinistra 3 tieni allo specchio credici destra 3 meno e tieni per al cartello per al cartello sinistra 4 lunga 2 tempi entra bene nel secondo e lascialo eh 1 2 qua dentro 50 sudosso al cartello sinistra 3 lascia sì 50 50 vista il terrapieno sinistra 3 corta tieni e pela è una 3 eh per ritardo destra 2 più sudosso scompone sì entra 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 tieni giù sinistra 5 bravo per sinistra 4 tieni occhio al cartello chicane entra da destra bravissimo bravissimo via 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 subito addosso dritto destra 5 scusami indosso dritto 20 destra 5 sfiora e lascia per destra 5 apre sì e occhio il dosso eh prendilo bene a destra non rischiare troppo bravissimo buono 4.46 hai tolto 6 secondi